Per eseguire un perfetto smokey eyes, come primo passaggio si applica nella parte inferiore dell'occhio Hydrating Primer, mentre nella parte superiore Lead Primer, nella tonalità smoke. Preparata la base, diamo profondità e definizione agli occhi con una bordatura infrascigliare con una matita scura lungo le ciglia superiori e inferiori, sfumando bene con dei movimenti circolari. Si applica poi una tonalità intermedia di ombretto in polvere che sfumeremo sia nella palpebra superiore che nella parte inferiore. Termineremo il nostro smokey eyes applicando alle ciglia Lush Primer e una generosa quantità di Mascara. Vi abbiamo presentato lo smokey eyes proposto da Smashbox. Per scoprire tanti altri segreti sul make up ti aspettiamo alla nostra scuola trucco. Per tutte le informazioni puoi andare